Buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrete quindi comprendere quanto significa per me e per l'amministrazione tutta essere qui a rinnovare insieme a voi il rito di possesso di questi luoghi. Qui abbiamo Piero Bon che viene da Venezia, credo che sia opportuno e giusto. Grazie a tutti. Con giunta con Venezia serenissima che ha mille e sette anni. Voi ne avete qualche anno in meno, comunque siamo gemellati da dodici anni, viviamo assieme e questo è un piccolo segno di riconoscimento. Grazie a tutti. Sui vivi e sui defunti che sono passati per questi luoghi e vi rimanca sempre. Amen. E dato che siamo contornati da cavalcanti che si sentono leoni, voglio fare un brindis e la salute del sindaco Marconi. C'è chi stira e c'è chi lava ma degusta pure il cacio con la fama. Grazie. 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 Grazie.